Qui c'è un nuovo elevatore, benvenuto da Lifty Mata ed è migliorato da questa marca serve 5 luoghi, credo sì c'è Lifty X placca è venuto è venuto non c'è non c'è non c'è è buono ah holy shit è piccolo da la video ormai in te è ben Lifty Mata 3 persone c'è nei 50 kg brand? I don't know non c'è non c'è non c'è ma con il mio saccamsa non c'è sabbia ma non c'è non c'è no sostanzation is about the brand zero io parlo della malla e fai sit for di salavator